Ha oltrepassato la notte Dragan Ionica, il dipendente dell'Aston SRL, soccorso con codice di massima urgenza nel tardo pomeriggio di martedì in seguito ad un drammatico infortunio sul lavoro. L'incidente è avvenuto in un capannone industriale in via Veneto a Sarcedo nella titta dove l'operaio di origine romene di 52 anni lavora da lungo tempo. Secondo le prime indicazioni diffuse nella prima serata, l'uomo si apprestava a fine turno quando intorno alle 17.30 dei manifatti di metallo su cui stava lavorando sarebbero precipitati su lui. I colleghi a corsi per soccorrerlo hanno immediatamente lanciato l'allarme dopo averlo liberato dalle pesanti lastre. L'aggiornamento odierno sulle sue condizioni dopo il ricovero in codice rosso e lo spostamento immediato nel reparto di rianimazione dopo il passaggio in pronto soccorso descrive uno stato di salute molto grave in seguito alle lesioni interne e addominali. Il 52enne ferito ha superato la notte, prognosi comunque rimane riservata. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Tiene.